Buongiorno, ammettiamolo, siamo tutti dei narcisi. Ci piace vederci allo specchio, vedere noi come siamo adesso o perché no? Vedere noi come eravamo nel passato, vederci proprio, non solo tramite una foto oppure un video, ma vederci direttamente come eravamo nel passato. Noi, oppure perché no, l'umanità intera come era nel passato, vedere, vedere come avviene, bene avviene grazie alla luce, una luce che viaggia, che viaggia con una velocità finita e che viaggia seguendo una via. Quale via? La via più breve, la geodetica, quella che nella geometria piana è la linea retta. Ricordiamoci però che l'universo ha una propria forma che curva la luce. In un altro video abbiamo mostrato come uno dei possibili modelli è il modello a ciambella. Chiediamoci allora come viaggerebbe la luce se l'universo avesse questa forma. Ricordiamoci come in un altro video abbiamo ottenuto la forma a ciambella, siamo partiti da una superficie piana, l'abbiamo poi avvolta su se stessa ottenendo un cilindro e abbiamo poi unito le parti libere e finalmente abbiamo ottenuto la ciambella, il toro. E allora se supponiamo nella superficie piana di guardare per esempio verso l'alto vediamo che cosa otteniamo nella superficie torridale. Otteniamo che la luce nel toro segue una traiettoria circolare, cioè vedremmo noi stessi guardando verso l'alto, ma non solo, anche guardando a destra. Avremmo comunque una traiettoria circolare, insomma guardando in qualsiasi direzione vedremmo comunque copie di noi stessi. Insomma se l'universo avesse una forma a ciambella, esso sarebbe una vera e propria meravigliosa sala degli specchi. Potreste osservare, ma noi non vediamo copie di noi stessi. Ebbene ricordiamoci che la luce ha una velocità finita e che l'universo è ben grande e quindi probabile che non fa in tempo la luce a riportarci l'immagine di noi stessi. Magari qualcosa ci arriva, ma ci arriva di che cosa? Insomma di qualcosa che è così lontana del passato che c'è irriconoscibile. E allora che cosa fanno gli scienziati per capire se trovare conferme del modello a ciambella, quindi del fatto che la luce segua traiettorie circolari, osservano la radiazione cosmica di fondo e cercano in essa dei pattern ripetitivi. I pattern ripetitivi non sono stati trovati in un esperimento che è stato fatto nel 2015. Ciò non vuol dire che l'ipotesi del universo a ciambella è smentita e scorretta. E' ancora in piedi, per quale motivo? Perché noi comunque possiamo osservare solo una parte dell'universo, il cosiddetto universo osservabile, proprio perché la luce ha una velocità finita e quindi possiamo vedere solo la luce che ci è arrivata a partire dal Big Ben. Quindi l'universo osservabile, seppur molto grande, è probabile che sia solo una piccola porzione dell'universo. Ecco perché la ricerca, gli sforzi continuano magari identificando altre strade, altre vie per ricavare queste preziose informazioni. Insomma, la realtà del mondo si presenta ai nostri occhi, multipla spinosa, a strati fittamente sovrapposti. Ciò che conta per noi è la possibilità di continuare a sfogliarla, come un carciofo infinito, scoprendo dimensioni di lettura sempre nuove. Grazie, arrivederci.